Pubblicato l'avviso da parte del Comune di Battipaglia per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di anni 18 e assegno di maternità per i figli nati dal 1 gennaio 2022. È l'avviso pubblicato dal Comune di Battipaglia a favore di coloro i quali ne hanno diritto. Assegno per i nucleo familiari è previsto per i residenti nel Comune di Battipaglia con almeno tre figli minorenni nel corso dei soli mesi di gennaio e febbraio 2022. L'Isee non deve essere superiore al limite reddituale di euro 9.955,98 euro. L'importo dell'assegno, se spettante in misura intera, è pari ad euro 147,90 mensili per un massimo di due mensilità, oltre la tredicesima in quota parte. L'assegno è concesso dal Comune, derogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dal Comune. L'assegno per la maternità o paternità deve essere presentato dal residente, purché non beneficia di un trattamento previdenziale per altre indennità di maternità. L'Isee non deve essere superiore al limite reddituale di euro 17.747,58 euro. Tutte le altre notizie possono essere verificate sul sito dell'ente.